La fer città degli olivi tiene confiato sospeso i tifosi neroverdi e forse non si doveva arrivare a tanto. I difetti di comunicazione, le cifre oscillanti fra 130 mila euro e il milione, i malintesi vari e le fughe in avanti che hanno caratterizzato gli interlocutori coinvolti, l'USD bitonto calcio e soprattutto l'amministrazione comunale, sono culminati persino in un faccia a faccia televisivo fra il vicepresidente Orlino e il sindaco Michele Abbaticchio che ha inasprito ulteriormente i rapporti. Trascesse a livelli incresciosi poi con le minacce di morte all'assessore Domenico Nacce e famiglia da parte di uno pseudosostenitore neroverde. Finalmente però mercoledì dovrebbe esserci la tanto agognata schiarita, un incontro fra il primo cittadino il presidente Francesco Rossiello che nel frattempo, provocatoriamente, ha paventato l'ipotesi di lasciare il titolo con fatica e con merito vinto sul campo. Sarà l'occasione propizia per presentare al fine il progetto di adeguamento della struttura, atteso il fatto che con tutta probabilità il termine ultimo di scadenza fissato dalla Lega Propre il 15 giugno slitterà a causa Covid-19. In concreto, oltre alla verifica dell'impianto di illuminazione all'allargamento del rettangolo di gioco, ci sarebbero da realizzare il vano per il controllo antidoping, la sala per i delegati della Lega, la tribuna stampa da 30 posti e la mixed zone, due serpentoni rimovibili, i tornelli e la zona per filtraggio, i pannelli di separazione fra le diverse tifoserie, i seggiolini per le gradinate, la panchina per il quarto uomo. Un bel da farsi senza dubbio. Orsù, mani alle cazzuole e buon lavoro a tutti. E c'è da fare in fretta perché ormai di tempo non ce n'è più o quasi.